Musica Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo di due temi, la prevenzione delle cadute dall'alto e la sicurezza di coloro che installano gli impianti. Per quanto riguarda la prevenzione delle cadute dall'alto, la regione Emilia-Romagna, come già avevano fatto molte altre regioni del nord e del centro e recentemente anche la regione Sicilia, ha approvato una nuova normativa che dal metà luglio del 2014 obbliga in tutte le case in cui si mette mano al tetto, ad esempio si ricostruisce il tetto, si fanno delle significative ricostruzioni, di installare le linee di vita. In base alla mia esperienza la manutenzione degli edifici è un fattore fondamentale fin dalla fase di progettazione, soprattutto all'estero dove c'è una cultura per quanto riguarda gli edifici di una notevole altezza, quindi grattacieli, opere anche un po' ardite da un punto di vista architettonico, il progettista fin dall'inizio deve prevedere quelle che sono le opere in dotazione all'edificio per poter fare poi le successive opere di manutenzione. Ad esempio, nei grattacieli devono essere previste nelle parti più alte, quindi diciamo alla fine, quando termina il grattacielo nel solaio, o opere tipo carrelli per i quali è possibile ai manutenitori delle facciate scendere, oppure degli agganci e a questi agganci coloro che fanno manutenzione si attaccano con le funi e fanno quelle lavorazioni un po' spericolate, ma che di fatto comunque sono le uniche possibili per poter eseguire lavorazioni di questo genere. Recentemente anche la Lombardia, un po' per l'Expo e un po' per altri tipi di interventi, ha cominciato a realizzare delle opere di grande altezza e anche lì i grattacieli si stanno adottando piano piano di questi dispositivi in maniera tale da poter permettere la futura manutenzione. Infatti è anche una formazione specifica quella che viene richiesta per le lavorazioni su funi. Molto spesso i lavoratori vengono da un passato di guida alpina che durante alcuni periodi dell'anno viene riconvertito a lavorazioni su funi, per cui è gente molto esperta, molto preparata, in grado di non temere le altezze e non soffrire ovviamente di vertigini e quindi questa è una possibilità per la manutenzione. Per quanto riguarda invece la nostra regione, quindi il nostro ambiente, non ci sono grandi edifici o edifici di notevole altezza. Quindi ritorniamo nel caso tipico dove già sul coperto durante la fase di manutenzione è necessario, indispensabile prevederli nell'invita, anche perché poi sul coperto potranno andare l'antennista, ci può andare l'attoniere, si dovranno sistemare i lucernai e quindi se non c'è un sistema, ripeto, in dotazione di edificio, in dotazione cosa vuol dire? Deve essere permanente e fisso in quel luogo. Ci deve essere anche una planimetria in maniera tale che chi viene la può studiare prima e dotarsi di tutti quei dispositivi anticaduta necessari per poter svolgere in sicurezza le lavorazioni in quello specifico contesto. Mi raccomando, ogni coperto è diverso dall'altro, quindi va studiato preventivamente. Questa foto è stata scattata su un coperto di un edificio che si trova nel centro di Bologna. Per quanto riguarda le linee vita, possiamo vedere la linea vita che corre lungo la parte sommitale del coperto, vedete, e per poter accedere a questa linea vita si passa attraverso questo lucernaio che viene aperto, quindi l'operatore tramite una scala riesce ad uscire dal lucernaio e di fianco proprio al lucernaio è posto il primo punto d'aggancio. In questa maniera lui si mette in sicurezza, esce dal lucernaio e poi con il secondo cordino si andrà ad agganciare lungo la linea vita e potrà scorrere. È molto importante notare che la linea vita scorre lambendo quelli che sono i camini. I camini non sono assolutamente stati realizzati per poter supportare la spinta di un eventuale caduto di un operaio. Al termine dell'installazione è necessario eseguire un collaudo. In questo particolare vedete che c'è un sistema denominato Tierfor che va a agire su il paletto di sostegno. Di fianco c'è uno strumento di lettura digitale, dinamometro, che misura lo sforzo al quale è soggetto il paletto. Bene, se il paletto supera lo sforzo vuol dire che è collaudato. Quindi la linea vita, una volta che è stata collaudata nel suo complesso e l'installatore avrà fornito al committente tutti i documenti, bene, questa linea vita, come tutti i sistemi, potrà essere utilizzata finalmente da tutti gli operai che dovranno andare a fare le future opere di manutenzione sul coperto. Il processo per analizzare il rischio di caduta dall'alto parte da un coordinatore della sicurezza, per esempio in fase di progettazione, deve analizzare quali sono le lavorazioni da fare, deve decidere quali sono i sistemi, i metodi per poter eliminare questo rischio. Perciò la scelta della tipologia di imbragatura, della tipologia di DPI e di collegamento è prima di decidere quale tipologia di ancoraggio installare. Gli amministratori di condominio, quando chiamano un'impresa ad eseguire dei lavori sul tetto, devono garantire che questi lavori vengano eseguiti in sicurezza. Altrimenti sono loro i diretti responsabili del fatto che non esistono questi sistemi di sicurezza. Il problema delle cadute dall'alto consente di trovare diverse tipologie di soluzione. Una di queste sono le linee vita. Il decreto legislativo 8108 impone a tutti quelli che devono lavorare in quota di proteggersi. Sicuramente la linea vita è una soluzione più economica, soprattutto in fase di manutenzione ordinaria delle coperture. In un condominio, per esempio, ci sono tante strutture che vanno manutenute, tipo i camini, le antenne, parabole e la stessa copertura, un tegolo, un colmo. La linea vita fa sì che sia presente un punto di ancoraggio sicuro e subito fruibile, con un abbattimento dei costi notevole. Per quanto riguarda le strutture industriali dove sono presenti i pannelli fotovoltaici, la loro manutenzione e la loro pulizia è molto più agevole perché in un qualsiasi momento un operatore può accedere in copertura, eseguire le operazioni di manutenzione e quindi portare a termine il suo lavoro, sempre con un risparmio di costi notevole. L'elemento più diffuso di ancoraggi per coperture è la cosiddetta linea di vita. Si tratta di un ancoraggio realizzato con un sistema orizzontale in genere di cavo di acciaio, applicato a due paletti laterali e ad eventuali paletti intermedi in base alla lunghezza del dispositivo. Questo tipo di ancoraggio risponde ad una normativa specifica sui sistemi di ancoraggio che è la norma UNI-N795. Oltre alla linea vita, di cui qui vediamo un piccolo esempio, vengono utilizzati sulle coperture anche ancoraggi singoli ad occhiello con varie fogge per le varie sistemazioni sulla copertura. Come si utilizza una linea vita? L'installazione della linea vita prevede un progetto che consenta una efficace protezione su tutte le parti percorribili della copertura. Il lavoratore che accede alla copertura deve utilizzare dei dispositivi di protezione anticaduta appositi che devono essere collegati alla linea vita, la quale deve essere raggiungibile sempre tramite un percorso sicuro che utilizza altri ancoraggi di accesso. Il collegamento alla linea vita può avvenire o con un semplice cordino regolabile in lunghezza o con un cordino con assorbitore di energia o, se dobbiamo muoverci in una porzione della falda di copertura più vasta, con sistemi che consentano spostamenti maggiori rispetto al punto di sistemazione della linea che in genere è sempre la sommità, cioè il colmo del tetto. Questi sistemi di spostamento sono o il cavo retrattile di lunghezza adeguata o la corda di trattenuta con un apparecchio scorrevole che consente il bloccaggio dell'uomo in ogni posizione oppure la corda con l'apparecchio scorrevole anticaduta. I sistemi di collegamento alla linea vita consentono anche spostamenti lungo la falda di una certa importanza che potrebbero esporre facilmente il lavoratore al rischio di cadute con effetto pendolo, cioè cadute laterali rispetto al bordo del tetto. Ma il lavoratore deve essere istruito appositamente, quindi con una formazione adeguata all'utilizzo corretto di questi dispositivi. Abbiamo approvato in assemblea un atto di indirizzo specifico sul tema della sicurezza per eliminare gli infortuni il più possibile. Lo abbiamo fatto perché purtroppo ancora gli infortuni sul lavoro sono una piaga molto importante in un paese civile, non è giusto ed è opportuno quindi che si lavori, che si cerchi di lavorare molto di più sul tema delle prevenzioni, anche perché i soldi che si risparmiano adesso, che non spendiamo adesso, poi li spendiamo dopo con gli interessi perché ci sono intanto costi di vita umane, purtroppo, ma ci sono anche costi sanitari, ci sono costi assicurativi e per cui meglio appunto prevenire anche in questo campo che curare dopo. Ovviamente gli infortuni quando parliamo dei cantieri edili e soprattutto quando parliamo delle altezze sopra i due metri, quelli che sono, come dire, i più importanti, anche i più numerosi, sono appunto quelli delle cadute dall'alto. Con gli ordini professionali è già in corso un rapporto, stiamo già facendo della formazione, bisogna chiaramente potenziarla. Bisogna cercare di avere rapporti e relazioni con soggetti come ad esempio gli amministratori dei condomini, che sono, come dire, soggetti abbastanza scollegati e invece per questa direttiva bisogna assolutamente coinvolgerli. Poi un fatto di straordinaria importanza, che probabilmente finora è stato un po' sottovalutato, ma che ci sono tutte le possibilità per recuperare, è proprio quello di lavorare con il sistema bilaterale, diciamo così, del mondo dell'edilizia. Questo sistema ha un potenziale enorme, perché ha il know-how, ha la conoscenza delle imprese, degli studi tecnici, ecco, bisogna che proviamo magari a studiare, ad elaborare un protocollo e vedere un po' come riusciamo a distribuire le attività, chi fa cosa, e anche questi quindi chiamarli a renderli, come dire, a rendersi importanti su un progetto di questo genere. Perché, e concludo, credo che la prevenzione per gli infortuni e comunque l'attività, insomma, per, diciamo così, elevare la cultura su questo tema, credo che rappresenti, anzi, richieda veramente una responsabilità sociale molto diffusa. In merito all'emissione del decreto della Regione, che obbliga anche nella nostra Regione l'inistrazione delle linee di vita, ritengo che sia una cosa positiva, questa normativa, perché permette di poter mettere in sicurezza i fabbricati in fase di manutenzione e nuova costruzione, avendo le spalle normative specifiche e le indicazioni chiare. Fino adesso la Regione di Romagna non imponeva niente come la normativa nazionale e spesso i committenti, quando gli si diceva di mettere su un'inistrazione di vita, la prima cosa che chiedevano era se era obbligatoria. Non era obbligatoria, quindi non la mettevano, perché era un costo in meno. Con l'entrata in vigore della normativa, che sarà ufficialmente in vigore a metà luglio di quest'anno, diventa un obbligo, è un obbligo che permetterà comunque ai condomini, ai privati, di poter installare qualcosa, quindi linee di vita, dispositivi di sicurezza in quota per le manutenzioni successivi, che eviteranno futuri rischi in caso di manutenzione, antennista sul tetto, perdite su coperto, muratori che intervengono, interventi dell'attoniere. Cose che oggi non ci sono, spesso si vedono, girando anche per la città, operai che fanno interventi di manutenzione su coperti, senza nessun dispositivo, perché non esistono. La speranza è che l'entrata in vigore di questa normativa possa permettere, in tempi limitatamente brevi, di mettere in sicurezza la maggior parte dei coperti per gli interventi di manutenzione successive. Io ho avuto anche esperienze di lavoro in altre regioni dove esiste questa normativa, la legge della Lombardia, in cui abbiamo fatto un intervento, io in qualità di coordinatore per la sicurezza, di pose di pannelli fotovoltaici su coperti di capannoni. La legge della Lombardia, già da diversi anni, ha la legge regionale che impone la progettazione e esecuzione dei dispositivi di progettazione individuali per le manutenzioni successive e le cose funzionano prima di cominciare i lavori. Insieme alla documentazione di progetto viene consegnata anche la modulistica con l'indicazione della tipologia di linee di vita che si intendono posare e al lavoro finito viene presentato il progetto con tutta la documentazione necessaria. Quello che poi dovrà succedere con l'entrata in vigore della normativa anche della nostra regione. Il sistema di installazione di una linea vita non può essere fatta a caso. Va fatta dopo una selezione e dopo un'analisi del rischio per arrivare a capire quali sono i sistemi e i metodi corretti per poter installare. Troppo spesso si vedono dei sistemi installati solo per rispondere ad un adempimento e che non hanno nessun requisito di rispondere alla sicurezza del lavoro. In pratica applicare questa delibera da quando sarà attiva l'amministratore del condominio dovrà incaricare un tecnico abilitato per esempio un coordinatore per la sicurezza di redigere questo elaborato tecnico della copertura. Poi dovrà incaricare un'impresa che installi conformemente alle norme tecniche di riferimento questi sistemi. Tutti i documenti che sono indicati chiaramente nella delibera regionale fanno parte o dovranno far parte del fascicolo tecnico dell'opera e venire utilizzati nelle eventuali future manutenzioni in copertura. Se dobbiamo mandare un antennista ad eseguire una manutenzione sul tetto prima che questo acceda alla copertura dovrà aver preso visione di tutti i documenti comprendere quali DPI dovrà utilizzare quali sono i punti di accesso qual è il modo di transito in copertura per poter eseguire in sicurezza il proprio lavoro. è probabilmente opportuno che questo antennista o questo operatore prima dell'accesso affermi magari mediante una firma o una dichiarazione di aver ben compreso i documenti che gli sono stati sottoposti. Occorre ricordare che il decreto legislativo 81 all'articolo 26 pretende che il committente verifichi l'idoneità tecnica di chi esegue questa installazione. Non esiste un albo degli installatori perciò tecnicamente chi è abilitato a lavorare in quota può eseguire questa operazione ed è opportuno verificare realmente che ci siano stati fatti corsi per i lavori in quota per l'utilizzo dei DPI e buona cosa sarebbe anche che questi operatori che installano le linee vita abbiano fatto corsi presso i produttori di come installare e di come utilizzare correttamente queste linee vita. Per quanto riguarda questo nuovo atto di indirizzo della Regione Emilia-Romagna i commenti possono essere sicuramente positivi perché la stavamo aspettando da tempo volendo arrivata un pochettino in ritardo ma sicuramente introduce degli aspetti per quanto riguarda la sicurezza e quindi per i lavori in quota molto importanti perché questa normativa imporrà le future costruzioni e manutenzioni che comunque avranno necessità di un titolo di avere sia la progettazione che l'installazione di questi sistemi anticaduta questi sistemi che serviranno a proteggere le persone che successivamente dovranno andare a effettuare qualsiasi genere di ispezione o manutenzione su un coperto che è dal 15 luglio la norma regionale entra completamente in vigore quindi tutti i committenti tutti gli attori che sono le imprese che sono gli amministratori condominiali avrete l'obbligo di sottostare a questa norma e quindi di informarvi e di conoscere esattamente tutte quelle che sono gli obblighi previsti e di conoscere